carissimi ragazzi e ragazze in ascolto e maria a tutti ben ritrovati sulla frequenza di radio buon consiglio per una nuova puntata di spazio giovane dato leonardo maria pompei vi ricordo che stiamo e approfondendo il lungo discorso sette sacramenti ieri è iniziato il mese di giugno dedicato al sacro cuore come sapete domenica prossima sarà un importantissima festa del corpus domini la festa dell'eucaristia quindi un grande momento in cui avremo modo di rendere tutto il culto che è dovuto al santissimo sacramento sia attraverso una degna partecipazione alla santa messa sia soprattutto cosa che raccomando a tutti e ciascuno gli ascoltatori attraverso la partecipazione al corpus domini che è un alla processione del corpus domini scusate che è una che è in assoluto la processione più importante di tutti perché l'unica dove seguiamo non semplicemente la croce il crocifisso ma l'autore stesso della nostra vita perché viene portato appunto in professione il santissimo sacramento e anche come in molte parrocchie si usa proponetelo ai parroci se non lo fanno ecco di fare qualche bella infiorata e davanti alla parrocchia o anche per le strade dei paesi per onorare il corpo di gesù come dicevano la scorsa puntata ne facessimo ne inventassimo pure quante la fantasia umana in grado di escogitarne insomma per rendere culto e gloria a gesù e carestia staremmo sempre largamente abbondantemente al di sotto di quello che gesù e carestia merita ecco abbiamo si siamo lasciati la volta scorsa con la lettura degli undici canoni del concilio di trento del decreto sul sacramento dell'eucharistia del concilio di trento che oggi chiaramente cominceremo a commentare e sapendo che poi il concilio di trento anche questo dovremmo vedere ha dedicato un capitolo ad hoc al santo sacrificio della messa perché i riformatori protestanti negavano che la messa fosse un vero sacrificio già nei confronti di questo termine sacrificio è un'allergia endemica congenita oserei dire e e lo negavano e quindi e la chiesa è dovuto intervenire per riaffermare invece il la natura essenzialmente sacrificare della santa messa ed anche come dire spiegando un po esattamente che cosa accade durante la celebrazione del sacrificio caristico sempre per quanto è possibile diciamo mente umana però anche qui spero che a suo tempo avremo modo di comprendere un po di più che cosa è la messa perché è in assoluto la cosa più grande che esiste in tutto l'universo comunque riprendiamo dalla analisi degli undici canoni del concilio tridentino come cominciando sull'eucharistia cominciando il commento dobbiamo anzitutto dire se ricordate diciamo gli effetti le risonanze interiori che la lettura di questi canoni ha suscitato dobbiamo assoluto affermare che la dottrina sul sacramento dell'eucharistia del concilio di trento è davvero un faro sfolgorante ecco anche perché è quasi tutta come dire copiata fatto copia e incolla si direbbe oggi dai dalle affermazioni di santo ommaso d'aquino sull'eucharistia sapete che santo ommaso d'aquino viene chiamato dottor angelicus e viene raffigurato con un eucharistico con uno con nostri sul cuore ecco perché se ci sono delle delle cioè se santo ommaso ha degli aspetti dottrinali in cui è per ora insuperato e a mio avviso insuperabile è proprio quando parla dei sacramenti dell'eucharistia in particolare ma anche di tutti quanti i sacramenti chiaramente ci sono nella somma teologia perché santo ommaso d'aquino non è dio in terra come nessuno dei padri della chiesa questo dobbiamo sempre medizzarci sono delle affermazioni che non possono essere condivise per esempio santo ommaso non vi scandalizzate di questione di caposta queste cose perché impariamo a non idolatrare gli uomini anche quando sono grandi uomini e comunque verso cui dobbiamo essere debitori ecco però io penso che il signore permetta anche queste cose proprio per ricordarci che sono dei grandi uomini ma sono grandi perché dio li ha illuminati sono uomini in ogni caso per esempio santo ommaso d'aquino per la sua concezione particolare di cristo salvatore quindi per lui cristo incarnato è assolutamente salvatore se l'uomo non avesse peccato il verbo non si sarebbe fatto carne posizione sua su questo a mio avviso ha visto molto meglio la scuola francescana che invece affermava l'incarnazione del verbo anche a prescindere dall'eventuale peccato dell'uomo e quindi conseguentemente che cosa succede che non riesce ad ammettere che la madonna è l'immacolata concezione quindi certo non immaginate che il santo maso pensasse che la madonna fosse una peccatrice quindi lui aveva un amore sviscerale nei confronti della madonna era un domenicano discepolo di san domenico di guzman quindi potete immaginare no però e quindi ne parla con estrema delicatezza come si dice qua c'è stato la madonna è stata come l'ambita un minimo istante dalla colpa d'origine poi è stata immediatamente come dire pulita in maniera totale da cristo senza che questo scatenasse nella concupiscenza quindi però c'è stato un istante in cui è questo sbagliato perché la madonna c'ha avuto neanche neanche un micron di istante in cui è stata schiava di satana perché anche un micron di istante questo torniamo sul corso ci siamo detti sul sacramento del battesimo sarebbe stato un guaio devastante per cui dio questa cosa non l'ha voluta ma santo maso d'aquino per la sua e con parte con particolare soteriologia chiaramente non poteva fare a meno di postulare una cosa di questo genere quindi questo per dire perdonatemi la parentesi ma siamo in tempi di io richiamo siamo in tempi oggi più di allora di di idolatrie d'accordo nel senso che noi ci attacchiamo non dobbiamo attaccarci a nessun uomo cioè io mi ricordo ci ho sofferto tanto per queste cose no noi abbiamo questo questo schema mentale dice quello è santo santo maso d'aquino è santo ed è dottore della chiesa d'accordo quindi tutto quello che dice necessariamente oro colato non è così tutto quello che dice è certamente forte di lande dell'autorità di un santo e di un dottore della chiesa ma anche quello che dice lui è soggetto alla rivelazione e al magistero della chiesa ho detto 100 miliardi di volte continuo a ripeterlo questo vale per tutti d'accordo per tutti e il magistero della chiesa per questo che io sto seguendo il consiglio di trento si esprime solennemente solo nei concili oppure quando il papa parla ex cattedra solennemente si esprime ordinariamente anche in altri atti tipo quando un pontefice scriva un'enciclica tipo quando un pontefice ancora di più per questa cui per questo è vincolante quando faccio una definizione di fede abbiamo visto nelle puntate precedenti qualche 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 papa fare delle affermazioni forti ma basta poi però capite quindi un'omelia un intervento catechetico una con una cosa di questo genere fatta da qualunque uomo di chiesa fosse anche il più grande santo vivente sulla terra va accolta certamente con rispetto e con come dire il debito onore d'accordo ma anche quella è soggetta d'accordo a fallibilità ed è soggetta all'esame che deve essere fatto alla luce della dottrina della chiesa ve le dico queste cose perché sono innumerevole le persone che io incontro e che mi vengano a dire sì io su questa cosa magari ho peccato sbagliato però a me il prete mi aveva detto che dico che il prete aveva detto che a me che mera in po cioè che cosa cambia cioè che un prete ti dica x se a te ti viene lo schiribizzo avendo fatto il catechismo che questa sia una cosa strana se vuoi stare come dire in pace in coscienza davanti a dio tu devi fare solo che che una cosa ti compri il catechismo della chiesa cattolica anche quello nuovo non c'è nessun problema se l'unico problema è che è grosso che provisso quindi che la differenza delle catechismi antichi erano brevi a botta risposta questo è un pochino più approfondito ma c'è l'indice analitico vai a cercare l'argomento di che cosa ha detto che non andrà a messa la domenica una stupidaggine vai a cercare terzo comandamento ricorda di santificare le feste e vedrai che trovi scritto nel catechismo della chiesa cattolica che chi senza una grave necessità un grave motivo manca la messa domenicale commette peccato grave punto quindi non esiste prete non esiste vescovo perdonatemi non esisterebbe neanche papa cosa che ovviamente al papa passa anche per l'anticamera del cervello fare una cosa di questo genere che possa dire diverso da questo non lo può dire capite e se lo dice destituito di ogni autorità e quindi non è che bisogna disobbedire a lui ma bisogna ignorare quello che ha detto perché noi dobbiamo obbedire a dio e alla chiesa con la c maiuscola non al singolo uomo di chiesa fosse pure santo come sant'ommaso perché sant'ommaso adesso io dico poverino adesso lo ho un pochettino ma io ho una venerazione immensa perché le cose che sentiremo sull'agrestia sono tutte sue quindi ha davvero ricevuto delle grandi luci da parte del signore di cui dobbiamo essere grandi luci ricevute senza che per questo cessasse di essere umano un essere umano anche se un grandissimo santo perché anche da un punto di vista ascetico e di virtù santo ha camminato molto in alto nella via della santità capite per cui non attacchiamoci ripeto mai a nessuno ringraziamo il signore se lui illumina e ispira qualche faro l'ha sempre fatto nel corso della storia della chiesa ma ricordiamo sempre che la fonte della luce è lui e che anche quel faro potrebbe in qualche circostanza spegnersi capite quindi sono attaccato a cristo e non al faro quando il faro si spegne io continuo a seguire cristo se sono attaccato al faro non a cristo se il faro si spegne continua a seguire il faro e me lo vado a finire dentro una buca e questo non va bene chiuse queste parentesi allora la fede della chiesa che abbiamo diciamo così individuato in forma perentoria e negativa e forte come era un tempo tradizione poi che 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 la cessazione di questa tradizione sia un bene o sia un male ci sono come dire interpretazioni differenti io ci avrei pensato un pochino prima di bandire questo linguaggio nonostante la sua severità cioè perché dire guarda che se tu dici che questa cosa non è così tu sei fuori della comunione della chiesa cioè sei anatema io penso che in alcune circostanze sia necessario perché la chiarezza è sempre amica della verità la confusione come dire l'indefinito il girare intorno il prolificare delle parole senza che poi uno vada a chiarificare non sempre amico della verità perché ci sono c'è la possibilità di dire le cose in maniera semplice e chiaro e di orientare le persone anche quando si debba dare una direzione netta perentoria se tu non credi che gesù cristo è presente nell'eucarestia in corpo sangue anima divinità si è fuori della comunione con la chiesa in termini brutali sei anatema sei scomunicato va bene quindi la fede della chiesa appunto afferma e che in questo sacramento è contenuto veramente e realmente cioè non in modo apparente o simbolico ecco questo veramente realmente in cui gesù è contenuto in questo sacramento lo stesso nostro signore gesù che è in cielo è realizzato in maniera sostanziale abbiamo visto due puntate fa cioè attraverso la sostanza del corpo e del sangue di gesù presenti nelle singole specie quindi non attraverso le membra fisiche che si ora si trovano in cielo alla destra del padre ma attraverso questa conversione sostanziale chiaramente la conversione sostanziale del pane nel corpo di cristo nel sangue di cristo determina immediatamente quella che si chiama tecnicamente la presenza per concomitanza di tutto cristo abbiamo visto la volta scorsa perché se da qualche parte è presente il corpo di una persona che adesso è viva e gesù è vivo adesso perché seduto alla destra del padre il mio corpo adesso si trova a latina sto parlando con voi ecco ma dentro il mio corpo c'è la mia anima dentro il mio corpo c'è il mio sangue io sto parlando con 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 gli ascoltatori no quindi essendo io un vivente se da qualche parte si trovasse la sostanza del mio corpo io starei lì è chiaro che gesù è dio e gesù è seduto alla destra del padre quindi ha la possibilità di moltiplicare la sua presenza nei tabernacoli attraverso la conversione di una specie pane in corpo ma conseguentemente dove c'è il suo corpo di lui che attualmente è vivo c'è tutta la sua persona ecco come dire il passaggio che rende chiaramente in parte comprensibile senza togliere il mistero perché comunque se tu vai a fare l'adorazione eucaristica sempre un pezzo di pane vedi con i tuoi occhi sensibili non viene annullato il mistero dalla comprensione parziale di esso però capite un po meglio ci possiamo capire no quindi ogni dottrina contraria a questo realismo forte anche se moderato non estremo vi ricordate come di quelli che pensavano che se tu ti mangi corpo di cristo schiacci la carne di gesù quindi è condannata però ogni dottrina che voglia in qualche modo ridurre a valenza simbolica come vorrei come volevano e come vorrebbero i protestanti di ieri e di oggi la presenza di gesù nell'eucaristia dico di ieri e di oggi perché questa le varie dottrine della presenza in qualche modo simbolica di gesù nell'eucaristia sono state rispolverate negli ultimi 50 anni purtroppo da alcune scuole teologiche che adesso non è il caso via radio di stare troppo approfondire dando luogo ad altre due parolacce la volta parolacce in senso stretto che vorrebbero descrivere in termini filosofica in termini filosoficamente aggiornati secondo loro la presenza di gesù nell'eucaristia uno si chiama trans significazione e l'altro trans finalizzazione addirittura c'è una terza ancora trans socializzazione cosa significa trans significazione tra significazione non è altro che una forma elegante per svuotare la presenza reale di gesù ridurre la presenza simbolica perché trans significazione significa che quel pane cambia di significato cioè mentre il pane ordinariamente significa alimento del corpo quindi ciò che è necessario per il corpo il pane eucaristico significa alimento dell'anima cioè ciò che è necessario alla vita dell'anima questo non è che è falso è vero ma non è semplicemente un cambio di significato cioè nel contesto liturgico durante la messa io come dire sottraggo il pane dalla sua destinazione comune e gli do la destinazione spirituale rituale e no perché certamente l'eucaristia era nutri e serve al nutrimento dell'anima ma servono di metodo dell'anima perché l'eucaristia è il corpo di cristo quindi prima dici che è il corpo di cristo e poi da questa spiegazione perché se passi direttamente a questa dico vabbè ma allora è soltanto un cambiamento di significato di un pane che pane rimane capite capite e la stessa è e lo stesso discorso analogo a quello sulla trans finalizzazione cioè cambiamento del fine per cui il pane esiste tra il pane reale il pane eucaristico ma sono sempre delle modalità capite la trans socializzazione come dire accento invece il fatto che il pane eucaristico servirebbe a cementare la comunità non si poggia su alcuni asserti di sant'agostino che dice come tanti chicchi di grano formano un pane così il pane eucaristico raduna tutti noi e quando noi facciamo la comunione cosa in parte vera d'accordo certamente ha detto tant'agostino certamente noi non soltanto ci uniamo di più a gesù ma ci uniamo anche di più ciascuno l'uno all'altro no è per questo che non si può fare la comunione se uno non sta in pace con tutti per questo che il gesto simbolico non da dare troppa importanza del segno della della pace precede il fare la comunione perché se tu non sta in pace con tutti non hai perdonato tutti e non hai chiesto perdono a tutti se ti ricordi che qualcuno ce l'ha con te dice Gesù nel Vangelo lascia l'offerta torna indietro fai pace e poi ritorna quindi ecco quindi certamente non può fare la comunione se non sta in pace con tutti quindi c'è questa dimensione però vedete queste tre cose sono se sono accettabili come dire a fianco alla dottrina della transustanziazione che è la base su cui poggiano quindi prima affermi come dire con certezza e senza appello la presenza vera reale e sostanziale in corpo sangue anima divinità di Gesù Cristo in ciascuna delle due spese ciascun frammento di di esse punto e poi ci ricami sopra con tutte quante le certamente le significazioni e simboliche utili anche per la nostra formazione per comprendere sempre meglio quello che stiamo facendo ma non sostitutive perché se le sostituisci c'è il rischio che per l'accessorio perdi il sostanziale capite e questo è un pericolo perché poi di fatto così è successo in alcuni contesti no ecco l'utero al riguardo tanto per ragioni di di comprensione storica era un po più raffinato nel senso che non era così e grezzotto come queste nuove formule diciamo così che riducono la presenza di Gesù non lo charesti affatto simbolico lui parlava di con sostanziazione cosa diceva allora diceva che la presenza di Gesù durante il rito si affianca attenzione al pane e al vino e rimane per tutta la durata del rito salvo poi cessare capite quindi finita la messa se rimangono delle ostie puoi tranquillamente mangiartele come se fossero da un pane normale perché tanto lì Gesù Cristo secondo Lutero non c'è più d'accordo perché durante il rito lui come dire affianca la sua presenza in qualche modo unendola in maniera non in maniera come dire temporanea parziale a quella delle sacre specie dopodiché se ne va quindi anche questa totina chiaramente è condannata perché la chiesa si ribadisca inferma insegna che durante la consagrazione avviene una reale trasformazione della sostanza del pane e del vino in quella del corpo e del sangue di Cristo rimanendo integre solo le specie l'abbiamo visto ci abbiamo fatto una puntata a parte o apparenze delle sostanze originarie le specie o apparenze cioè rimane uguale il colore la forma il sapore l'odore del pane e del vino il peso il peso specifico eccetera eccetera ma cambia la sostanza abbiamo già visto che questo è un miracolo perché la sostanza delle cellule di un corpo umano non ha colore bianco non ha odore di pane non ha sapore di pane d'accordo ecco ma quello c'è capite ora in italia a cosa abbastanza positiva perché sapete che questo è un grande mistero ecco domenica prossima festeggeremo la festa del corpus domini perché perché c'era un poro prete di questo abbiamo soltanto il nome che era don pietro venente dalla bohemia quindi da molto lontano stava andando in pellegrinaggio sulle a san pietro sulle tombe dei dei papi e si fermò per la chiesetta di bozzena santa cristina chiedendo al parroco si gli dava la possibilità di celebrare la santa messa prima di ripartire e lui si portava dentro questo tormento io da prete posso dirvi che chiaramente non lo approvo ma lo comprendo d'accordo perché sto prete si è portato dice ma veramente quando io dico questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi anzi a quei tempi non si diceva fare il sacrificio per voi perché la forma della messa antica era più breve hoc esten in corpus meo quindi questo è infatti il mio corpo è stop ma veramente questo diventa il corpo di cristo ma proprio il corpo di cristo ma veramente il corpo di cristo io che sono sacerdote lo capisco perché quando sto sull'altare come dire a livello sensibile a livello emotivo noi uomini del 2015 siamo tutti quanti ultra ultra orientati su questo qui su quello che uno sente non senti niente non senti capite se voi pensate cosa pensa un prete quando celebra la santa messa a livello sensibile niente a livello spirituale ci può essere anche una grandissima partecipazione a meno che non ci siano dei casi straordinari come quello di padre prima padre più un caso come dire a parte diverso no quindi non è semplice credere anche perché tu dici perché tu dici ma io sono un povero uomo signore ma a te pare che tu nelle mani mie diventi tu scendi tu in persona quindi ripeto io non l'approvo questo questo pensiero perché non voglio certamente fare fare perché ho di dubbio consapevole dire sia però lo capisco ecco quindi perché so che anche stando da quest'altra parte la maggioranza delle persone che mi ascoltano adesso chiaramente non sono sacerdoti ma sono fedeli comuni quindi si chiedono ma come sarà dalla parte di un sacerdote è un dono immenso che però necessita non 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 ti esime dal compiere un atto di fede no è questo praticamente dentro 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 questa chiesetta di santa cristina mentre stava celebrando gli diventa carne viva spra comincia a sprizzare sangue bagna corporale bagna ancora l'altare ancora adesso a bolsena si può vedere la la lastra di marmo smacchiala di sangue mentre lì sono stati portati poi nel duomo di orvieto no non è stato l'unico grande miracolo caristico venuto nel 1200 intorno al 1260 era ancora vivo santo ommaso da da quino quindi sicuramente prima del 1274 questo è sicuro perché perché poi papa urbano diede a santo ommaso da quino riconosciuto il miracolo il compito e l'incarico di scrivere l'ufficio della messa e del corpus domini no l'ufficio e la messa del corpus domini e questo miracolo che è dato origine a questa non è l'unico ce ne sono di alcuni più grandi in italia più antichi e comunque c'è un libretto che si chiama i miracoli caristici in italia ce l'ho da qualche parte che dovrebbe essere in commercio che ne riporta almeno 25 accertati in tutta italia come pensate che noi siamo stati anche a e che cosa accade in questi miracoli testimoniano in maniera viva come dire evidente declatante questo realismo che cosa se avete capito bene qui sarebbe da fare una bella domanda sarebbe da fare un bel a tu per tu con qualche ascoltatore cosa succede in un miracolo eucaristico una cosa molto semplice guardate se avete capito la sostanziazione no succede che gli accidenti che rimangono gli accidenti del pane d'accordo quindi con una sostanza diversa si trasformano e diventano stavolta accidenti propri quindi capite da un punto di di vista sostanziale guardate che una messa celebrata con miracolo eucaristico e senza miracolo eucaristico da un punto di vista sostanziale non cambia proprio niente d'accordo sono zero cambia soltanto un po di scenografia il signore mi perdoni no ecco capite il senso di quello che sto dicendo cioè ti fa vedere quello che accade in ogni messa e che ordinariamente è velato dalla permanenza degli accidenti del pane senza che più ci sia la sostanza del pane quindi a quel punto che succede non c'è più un buona cosa di colore bianco ma diventa una cosa come dire tangibile insanguinata perché un corpo vivo addirittura a lanciano hanno fatto le analisi quello si tratta di un pezzo di cuore addirittura l'ultima volta che siamo andati ci hanno spiegato un'altra cosa sconvolgente quella pezzettino di cuore che sono 1200 anni che sta ancora lì e però per quasi 1150 conservato diciamo così a contatto con le intemperie mica sta in una zona come dire in una camera pressurizzata sterile come 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 ci sta adesso non c'erano queste cose prima no ma dicono che praticamente quella parte di cuore è nella zona di uno dei ventricoli mi sembra il ventricolo sinistro e quindi pulsa capite fa ancora il movimento come dire di 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 battito di di apertura e chiusura che quella valvola del cuore fa era un cuore umano non ormai ma vi rendete conto adesso vedete i segni della fede no perché certamente che la fede nell'eucaristia è una cosa grossa d'accordo però nostro signore l'ha fatto quando era in vita perché ha fatto i miracoli quando era in vita no e lo fa adesso che più che in vita più non è lascia dei segni in questo tempo tutti sapete che a torino c'è l'ostensione della sagra sindone ha voglia uno a fare il gallinaccio e state attenti che perché il signore lascia dei segni i segni della fede sono sempre segni nel senso che non sono delle dimostrazioni incontrovertibili però sono dei segnali veramente sconcertanti no anche perché gruppo sanguigno dei cinque grumi di sangue del miracolo di lanciano lo stesso della sagra sindone ab positivo identico e comunque sia cioè qualunque uomo che che ascolti queste cose anche l'ateo è perché nostro signore parlerà anche con i cosiddetti atei è perché lui segni di da perché chiunque voglia far funzionare bene il cervelletto lo faccia funzionare certo che un segno non ti porta ad una conclusione incontrovertibile d'accordo come un teorema matematico perché è un segno altrimenti sarebbe una dimostrazione però ci sono certi segni dico allora tu dimmi qualcuno faccia una telefonata al radio un buon consiglio e dica d'accordo come è possibile che dopo 1200 anni si è conservata intatta ed integra un pezzo di cuore che pulsa con sotto cinque grumi di sangue appartenenti del gruppo a b positivo d'accordo avvenuto durante la celebrazione di di santa messa con tanto di fonti di testimonianze che accertano e così andata e che si è conservato per 1200 anni così come qualcuno ha o si cioè certamente che sulla sindone ci sia scatenato sopra satanà sono cominciato a fare un sacco di ipotesi di cose le prove del carbonio 14 la post adattazione medio eccetera eccetera ma se uno studia bene la sindone quella lenzuola che ha volto nostro signore gesù se non altro guarda per una cosa che nel diritto romano era è legge sta scritto nel dentro le leggi romane io ho fatto la tesi dell'auto nel diritto romano quindi penso di saperne qualcosa no allora la pena della flagellazione non poteva per nessun motivo essere cumulata con la crocifissione perché erano due cose tremende l'uomo della sindone chiamiamolo così per rispetto a degli scettici è stato un uomo flagellato e crocifisso non ci sono allo stato attuale altri esempi che si è stata fatta una tale scienpiangere tra l'altro questo presenta un uno sgarro grosso quanto una casa all'altezza del costato cosa che ci dicono i vangeli e presenta sulla fronte una caterva insomma di grumi di sangue e di pressioni insomma di buchi che testimoniano che c'è stato un corpo con un corpo accuminato che ha portato sulla testa dico ma santo cielo che cos'altro vogliamo dire che cos'altro vogliamo dimostrare poi ci sono i pollini ci fa tutta una serie di studi negli anni negli anni passati pollini della della terra santa il tipo di tessitura di materiale la come dire la formazione dell'impronta che ancora oggi nessuno sa dire come è possibile che sia formata con impronta lì per quale fenomeno fisico c'è quell'impronta su quel lenzuolo un'impronta fatta in quel modo che se il lenzuolo aderisse realmente per esempio alla faccia voi immaginate di mettere un lenzuolo in faccia facendolo aderire sopra no quando lo togliete non esce un volto esce un mostro esce no perché il volto uscirebbe di dimensioni spropositate quindi dio ste cose era sempre fatte con l'eucaristia ha fatto 25 parti di italia distinte quindi chi non ci crede o chi tratta male gesù caristia nostro signore potrebbe dire dice bene era era tanto difficile credere sì te lo concedo figlio mio è difficilissimo beato chi ci ha creduto a questa cosa qui però figlio mio io sono venuto in soccorso della tua debolezza e tu hai dato queste dimostrazioni queste dimostrazioni sono perfettamente in sintonia con il tuo cervelletto e quindi perché non hai creduto nonostante queste dimostrazioni e che gli andiamo a rispondere al nostro signore il nostro signore ce ne avrà per tutti e quindi non scherziamo che non si farà mettere non si farà mettere a tacere da nessuno ma metterà a tacere tutti davanti a lui e non li mette a tacere semplicemente facendo ricorso alla sua autorità cosa che potrebbe ma li metterà a tacere facendo riferimento alla ragione alla giustizia nel senso che nessuno potrà opporre nulla alla sua sapienza questo sarà il giudizio particolare no ecco allora io personalmente penso che bisognerebbe oltremodo insistere oggi più che mai su questo oserei chiamarlo cattolicissimo realismo della presenza eucaristica di gesù che attesta la sua infinita bontà gesù rimane con noi non per scherzo o simbolicamente ma realmente veramente e inoltre attesta la sua infinita degnazione infinita e umilissima aggiungerei degnazione che chiede al destinatore di questo dono un amore e una riverenza tanto più grandi quanto maggiore è una come dire quanto maggiore la straordinarietà del del regalo che il signore ci ha fatto ora e io qui devo aprire la mia solita parentesi perché io scusate non riesco ad uscire da queste come dire da queste aporie d'accordo io mi sono sempre chiesto dico ma se un fedele d'accordo o anche un uomo di chiesa credesse veramente a tale dottrina e questa è l'unica vera dottrina cattolica ma scusate con quale coraggio uno prenderebbe l'ostia in mano per portarla a spasso in giro per le chiese rischiando di farla cadere a terra rischiando che si sta contro a me un frammento scatta e scatta per terra ma chi si azzarderebbe a prendere in mano il cuore pulsante di gesù c'è qualcuno che si azzarderebbe io che lo devo toccare per forza perché io consacro e distribuisco la comunione fedeli ma dovrei tremare dove devo tremare ogni volta succede una cosa di questo genere ma chi prima di accostarsi alla santa comunione sapendo che quella non è una caramella quella gesù cristo in persona ma non esaminerebbe cento volte la propria coscienza senza con questo cadere nello scrupolo o nel terrore ma certamente neanche nella leggerezza con cui vi assicuro oggi ci si accosta da parte dei più alla santa comunione ho detto cento miliardi di volte che il problema non sono solo i divorziati e gli sposati d'accordo ma molta gente che si alza a fare la comunione farebbe bene a stare seduta farebbe bene a stare seduta per essere certo di non avere sulla coscienza peccati mortali che perfino che profanino direttamente il signore in persona quale sacerdote prima di celebre la santa la prima messa per esempio la prima messa e il giorno prima di celebre la prima messa non dormito la notte ragazzi non sarebbe pieno di confusione mista stupore tremore gratitudine infiniti per l'onore di essere uno strumento di questo miracolo e per il privilegio di poter toccare le sacre specie che per secoli sono state riservate compreso san francesco e san tommaso alle mani consacrate io questo l'ho sempre detto ma l'ho detto anche in situazione diciamo così di perché ripeto la disciplina vigente della chiesa consente questa cosa e certamente io auspicherei che che cambiasse ma non ho il potere di farlo soltanto il potere di conservare un atteggiamento critico che mi riservo perché essendo un fedele ed essendo questa cosa finabile io ho il diritto di criticarla d'accordo quindi però non c'è soltanto una che c'è dico ragazzi fare una cosa di questo genere oggi fa tanto di moda san francesco sul mio blog ci sono riportate le sue testuali parole dalle fonti francescane che mi riservo poi di leggerle d'accordo sue d'accordo cioè non non sia solo i ministri toccano e amministrano solo i sacerdoti san francesco che era diacono la sagra e specie non le ha toccate mai come tutti i diaconi serviva la santa messa e al momento del per cristo con cristo in cristo alzava il calice ma toccare il calice quindi toccare un vaso sacro non è la stessa cosa che toccare proprio con le mani nude e sacre specie non è uguale quale cristiano sarebbe tanto temerario da osare fuori di casi di una vera necessità toccare addirittura distribuire ad altri la santissima chiestia chiaramente sto parlando di casi di vera necessità perché è ovvio che san francesco stesso diceva la necessità non ha legge perché se tu mi parli di una diocesi dell'africa dove c'è in una in un'area di non si sa quanti migliaia di chilometri quadrati un solo sacerdote e tanti fedeli affamati del corpo di cristo ma è ovvio che lì il sacerdote celebrerà la messa non lo so una volta al mese una volta ogni due mesi in qualche comunità e poi è ovvio che dovrà nominare qualcuno che ben formato ben curato eccetera eccetera abbia l'incarico durante le celebrazioni di distribuire l'eucaristia questa non ci si può fare niente capite ma è questa anche la razio originaria se leggere i documenti perché i cosiddetti ministri straordinari della santa comunità si chiamano ministri straordinari cioè vuol dire che si deve essere in presenza di circostanze del tutto straordinarie capite straordinarie quindi quello che oggi vediamo farsi in giro è un altro iper abuso e questo lo diceva posso fare nome e cognome non lo faccio veramente non è guai ma lo diceva senza mezzi termini il mio rettore di seminario quando ci sta faccia pure scritto d'accordo ed è una persona che poi ha lavorato anche insomma in in vaticano come canonista d'accordo dicendo certamente che il principio teorico e chi lo discute in caso di necessità nominiamo qualcuno ma in caso di necessità ci sono parrocchi in italiano stanno 20 30 ministri straordinari d'accordo semplicemente perché per fare la comunione altrimenti dopo passerebbero cinque minuti di più quando la redenzione in sacramentum testualmente dice non è non è da considerarsi circostanza straordinaria il fatto che la distribuzione dell'eucharistia si protrarrebbe per qualche tempo che fretta c'è c'è tutta sta fretta di scappare dalla messa se il sacerdote ci mette 5 10 minuti di distribuire l'eucharistia meglio così ti fai un po di ringraziamento e preghi un po che stai in mezzo che stai sulla sedia elettrica quando uno sta in chiesa che deve che deve affrettarsi a uscire più presto possibile qual è il problema che succede che succede bene forse sarebbe magari ricordare le condizioni per per accostarsi alla santa comunione perché se uno ricordasse un po di più a mio avviso i tempi di comunione diventerebbero più veloci perché meno persone si accosterebbero a farlo perché quando io in qualche circostanza le ricordo guarda caso registro un calo e spaventoso accennavo prima il problema non sono solo divorziati risposati io ne parlo e straparlo e ne riparlo è successo una volta qui le suore se lo ricorderanno in diretta radio lo racconto adesso pubblicamente perché un fatto successo durante una trasmissione e tu per tu con settimane di padre per forza pure già detto che mi chiamo a uno d'accordo ha fatto lui la confessione pubblica pure se in anonimo quindi relata refero che dice ma io voglio farmi la comunione però non voglio i figli quindi uso il preservativo e tutte le domeniche vado a confessarmi da un confessore diverso tra l'altro confessori sprovveduti perché non chiedono perché quando una persona dice ho fatto questo tu ti devi informare delicatamente se questo è un incidente che ha fatto una volta perché magari è preso male o se ha questa cattiva abitudine e devi anche verificare se l'ha già confessata perché le recidive nei peccati mortali non possono essere assolte subito questo è quello che insegna sant'alfonso diciamo faccio tutto il giro del circondario e così posso fare la comunità avanti le domeniche di bra tu pensi che riservano a qualcosa quelle quelle comuni tu stai accumulando confessioni e comuni sacrile oltre ai peccati gravi contro il sesto comandamento avanti se vuoi andare avanti va vai vai tranquillo poi vedrai quando trovi dinanzi al domine dio come te lo ricordi quello che ti ha detto non quello scemo di don leonardo che tanto non serve quello che dice don leonardo ma questo è sana dottrina cattolica corto perché dio perdona qualunque peccato a chi è pentito due giovanotti che hanno rapporti prematrimoniali se la scordano la comunione a meno che non si scordano di avere rapporti prematrimoniali si confessano così come un adolescente un giovanotto che c'è il vizio del peccato in puro solitario se lo deve togliere d'accordo perché non può per dieci anni andarsi a confessare tutte le settimane 15 giorni che ha fatto questa cosa non si può capite non si i peccati vanno la c'è per accostarsi alla comunione il peccato mortale non ci deve stare non esiste deve essere combattuto cioè non è detto che non riesca a togliersi l'autologio al domani ma deve registrare dei miglioramenti ecco perché qualcuno mi chiede ma è bene avere un confessore fisso a se tu non hai chiuso bene quei peccati mortali lo devi avere un confessore fisso perché a lui non lo inganni perché se il confessore fisso sente per la seconda la terza la quarta volta che tu confessi sempre lo stesso peccato mortale senza miglioramenti dovrà farti una terapia particolare ma tu non puoi rimanere così se tu cambi i passi di palo in frasco in continuazione cosa che di per se stesso è tuo diritto d'accordo perché ogni fedele insegna la chiesa ha diritto di confessarsi dove vuole quando vuole con chi vuole ma deve fare attenzione a non abusare lui stesso di questo sacramento perché se tu usi questa cosa in mala fede quindi gironzoli per confessori perché non vuoi essere scoperto nel fatto che tu continui a peccare e vuoi peccare e poi accostarti alla comunione cioè vuoi vivere in grazia di satana e ricevere il corpo di gesù cristo se fai questo ne rispondi davanti al padre eterno quindi altro che venissi straordinari basta ne avanzano quelli ordinari se uno fa un po di catechesi perché non mi sembra che oggi tutti siano tutti così santi d'accordo non mi sembra non mi sembra quindi e forse forse ecco una rinnovata comprensione di che cos'è l'eucaristia aiuterebbe a mio modestissimo avviso qualcuno a pensarci due volte prima di alzarsi certo se tu ti sembra insomma che st'ostia sia una specie di caramella che tu vai te la te la te la strofini in mano a destra a sinistra te ne spazio passo per la chiesa te la ma o qualcuno addirittura la porta a qualcun altro ci sono viste delle scene anche pubblicamente su youtube è pieno in occasione di grandi celebrazioni recenti che fanno raccapricciare non fanno accapponare la pelle con le osti messi dentro i bicchieri di plastica e i fedeli che se le spazio se le spazio se le spazio se le spazio se le passavano in giro chi acchiappa chi la da dietro ma stiamo scherzando ragazzi oh io quando vedo quelle cose dico signore mio è grande la tua pazienza è grande però dico anche cerchiamo di non fargliela finire la pazienza al nostro signore perché io non lo so se gli finiscono o non gli finisce perché boh non lo so spero di no ma se gli finisce e fa tutto insieme penso che ce ne abbiamo insomma da da scontare queste cose sono cose gravissime fatte nei confronti del dell'eucharistia no poi mi sono anche 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 un'altra cosa perdonatevi la mia vena polemica ma sarà un caso che dopo i primi secoli perché qualcuno dice ma no ma la comunione in mano si faceva anche nei primi secoli alt vero questo qui ma come si faceva questo non lo dice quasi nessuno non certo come si fa adesso è perché sulle mani dei fedeli questo bisogna documentarsi bene e anche i fautori di questa cosa mica la dicono tanto bene questa cosa quindi si mettevano certamente le mani in forma di croce ma sopra la mano del fedele c'era un corporale o purificatoio cioè l'ostia non andava a contatto diretto con la palma delle mani ma veniva deposta su un lino sacro messo sulla mano del fedele che poi non è che prendeva col ditino l'ostia e se la metteva in bocca ma accostava la bocca capite adesso dovrei 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 mimarlo ma non si può attraverso la radio vedete nel video si accostava alla mano e con la bocca prendeva le specie consagrate certamente però è già diverso da oggi capite già diverso e questa prassi terminò quando terminano le conseglie le persecuzioni quando i papi cominciarono a vedere che problemi di dispersione di frammenti problemi di abusi e nei primi secoli alcuni cristiani potevano portarsi le sacre specie a casa perché custodendo certamente in un certo modo ma capite che era ovvio che perché se vengono le guardie e ti portano dentro l'arena il giorno dopo che o sacrifichi a giove oppure te sbranna un leone ma forse sarebbe il caso di fare la comunione prima di che succeda questo no è ovvio questa una circostanza straordinaria e quindi era consentito quindi quando questi sono finito è immediatamente cessata questa passi sono cominciato una serie di provvedimenti papali dove è stato detto assolutamente proibito niente mani bocca ginocchio e nessuno e chiunque sia osato portare le ostie fuori dal luogo sacro che non si sono sacerdote viene automaticamente scomunicato e questo vale tuttora quali sono stati i primi fautori quali in quale parte si è per la prima volta rifatta la comunione in mano dai protestanti durante la riforma protestante cioè da chi nella presenza reale di gesù non ci credeva se non ci credi certamente che può fare così no ma se ci credi come fai io sono sempre me lo chiedo d'accordo non capisco ci sono delle cose io non capisco sarò stupido sarò non capisco ho già detto che non è come dire e conseguenziano non è che nessuno prende la comunione in mano puoi accusarlo del fatto che non ci crede che gesù è proprio dice io ci credo lo stesso faccio attenzione frammenti e me la prendo in mano va bene accetto questo questo discorso io però avrei difficoltà credendoci veramente a una cosa di questo genere ad assumere questa 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 cosa corto quindi insegnare una cosa di questo genere è un bambino cioè voi immaginate un bambino di nove anni che ha chiaramente una una delle facoltà intellettive limitate no come quello di un bambino di nove anni certo lui per certi aspetti aiutarlo dalla sua semplicità e dalla sua candidezza si può dire candidezza credo di sì a dire tu gli dici e quello è il corpo di gesù e quello ci crede magari più di un adulto che comincia a ragionare a cervellarsi tante per farsi tante questioni no però certamente se stupore ragazzino dal giorno della via comunione va a prendere ostia in mano ridendo e scherzando chi gli sta vicino e c'è ora anche un cuoricino più pulito del nostro è facile a credere ma poi di fatto penserà tanto a prendere una caramella io credo e quindi non interiorizzerà la grandezza e l'importanza della presenza di gesù nell'eucharistia no cioè non uscirà la dottrina su questo sacramento da queste prassi svilita banalizzata ecco quando già di per se stessa la sua comprensione è difficile cioè se anche tu usi tutti quanti gli escamotage tutti quanti le differenze tutti gli inginocchiamenti possibili tutti gli incensi possibili tanto quello agli occhi sempre in pezzo di pane sembra d'accordo e comunque ci deve essere comunque un salto di fede figuriamoci se tutte queste cose le togli e le appiattisci diventa ovviamente ancora più difficile mi sembra no adesso siamo nel mese del sacro cuore già nel 1600 quando non c'erano queste cose gesù si lamentava di indifferenze freddezze ingratitudine ricevute dal suo sacro care soprattutto nel santissimo sacramento dell'altare perché ci sono anche le c'è uno passa di lungo davanti al santissimo sacramento davanti al tabernacolo senza fare una geruflessione quella è una indifferenza grave d'accordo o peggio ancora quando quando sta esposto no quindi l'infinita umiltà di gesù in questo sacramento richiede rispetto e adorazione e non autorizza nessuno ad abusare di essa proprio rovina e perdizione io direi sto guardando l'orologio che oggi potremmo mettere punto qui proseguendo la il commento ai canoni tridentini alla prossima puntata vi do la mia benedizione ave maria